Il primo che domina la canzone vince Let's go! Sfera Rockstar Alexa che canzone è questa? Stai ascoltando Rockstar No! Stop! Capoplaza e Capri Sun Alexa che canzone è? Stai ascoltando Capri Sun e Capoplaza Olè! Stop! A se calore di Sfera e Basta e Ration Alexa che canzone è? Stai ascoltando Asica Lu Mi piace la musica e dance Quindi quando si balla Non si crede 24 marzo mi alza e c'è qualcosa che non fa Alexa che canzone è questa? Alpha 24 marzo Stai ascoltando Temporale 24 marzo di Alpha I anonni Davide Revelli E' giusto! E' giusto! Ho perso Ciao! Ciao!